ma dove sta avanti? avanti Bobolo Erba grande dorso l'hanno paragonato a colore senti guardiamo le foto di dorso noi e ci ricorda cioni da anziano e te da giovane senza capelli vai a semigliare a bestia ti avevi i capelli io e lei chi c'è? che fanno? a pulire lì? che c'è? stai di qua mira che mi fai comprare la pia mira che mi fai comprare la pia salite a Napoleone Portoferraia guarda guarda al cinema ciao capoliveri Framingo Framingo Rod che è successo? che è successo? che è successo? che è successo? ti dici che c'è una ripresa una ripresa? perché erano rimaste a pieno il ricavimento di 17% eh vuoi dire che si eh? si si notizia notizia grossa che c'è più morti che vivi questa è pubblicità occultata e di quanta gente ce l'ha sul vapore beh ma che ne aveva? nemmeno di qui e poi non c'è niente altro c'è niente altro d'orso ma chi era? come chi era tu? mamma caro sei ignorante ma chi era? non lo so io sì l'avevi capito l'ultima volta che tu dormi laio vabbè si non ho patito nel caccio quindi non era un grande giocato un Lazio no un Lazio che giocato a pallone abbiamo? eh Mario sì ha rotto tre vesti ha rotto tre vesti ha rotto tre vesti quando giocavo in piazza che rompivamo le vetrate a cosa? 80-50 ma quant'anni c'hai? io 54 54 oh no grazie guarda un po' che meraviglia ti rompivi i vestiti dal tupacino? anche ah li mettiamo otto eh li mettiamo otto tutti gli vestiti io mi porto tutti i caserma e invece a piacimento ti dai un petardo in mezzo alla gente a Porta Azzurro c'era a mezzanotte arrivano i carabinieri e stavano mettendo mi portarono un caserma anche quello ormai in prescrizione eh per loro per loro per te petardo dentro Portoni di Tuglia una bomba i Zolfanelli ma eravate delinguenti i Zolfanelli dentro Portoni ma Zolfanello ti bruciava all'occhio? eh non ti ricordi? e poi ora se i bimbi fanno un urlo eh bello poi c'era il noi eravamo educati in confronto adesso perché ora i Zolfanelli era ora vai a casa che dicevamo ho fatto questo bravo ma ho fatto bene lo Zolfanello era fatto di cosa mi si chiama erano le pasticche eh di di oh madonna quello che danno alla alla vigna lo Zolfo lo Zolfo aspetta Zolfo e poi le pasticche si andava dal coso da il farmaceutico ti dava le pasticche cos'era le pasticche no no le pasticche poi le tritava insieme con lo Zolfo si chi dava in sasso e esplodeva che delinguenti noi che c'entravo noi che delinguenti infatti dopo il trentesimo bimbo con il mandicolà dottorevo non le dava più le pasticche le pasticche le pasticche esplosioni atomiche è bello stamattina la regna c'è il fumo così la regna c'è il fumo no ragazzi noi abbiamo anche la strada dei briachici c'è scritto lì strada del vino anche io a spiaggia dei cani per cani non dei cani per rio marina strada del vino tutti briachici tutto nero abbiamo fatto un terino un terino un terino un terino un terino infatti se vai a rio ti è mancato questa mano Federico Regini a te? eh dai Federico ti è mancato come un foruncolo sul culo uguale come un dito a un culo bravo guarda un po' questo pazzo come scende da questa bicicletta a questa montagna o dov'è? qui sopra ah questo qui ma non è quello che ha perso la rotta? è Simone Simone e Bernardini ha perso la rotta eh Simone ha fatto la foto a Venturini ha fatto la foto a Venturini ha fatto la rotta a Venturini è stato l'amortizzatore ha fatto la rotta a Vado no guarda c'è anche dei pezzi c'è anche dei pezzi dove è stato battuto guarda eh Sì ti è passato 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 da voi così da voi così da voi niente ne passa che passa bello che cazzo c'è questo il cavo vengono qua ah non vuole mi dicevo io ma poi c'è quello di qua c'è un labbino fermato c'è un frutto fermato ma è già curva c'è un labbino andiamo per due si andiamoci basta avete il tuo stupido per la mattina comunque la ripresa degli hotel ricavi un aumento del 7% poi c'è lei va in contropendere infatti fu che le cervelle all'estero non ce ne avevano sopra le scuole ma niente perché i bimbi sono tirato non è vero questo è bugiardo il tirano non è mai bugiardo e noi siamo orientali no orientali occidentali siamo noi no orientali siamo noi orientali siamo noi vieni 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 fino a cavo bimbi a casa vedi capoliveri sono a scuola sono a scuola loro sono oriente dove nasce il sole sono avanti qui sono le 7 a capoliveri sono le 5 si c'è Fusarari di questo ragazzo che è morto che è scuola noi le notizie non le diciamo brutte siamo curiardici e ce ne andiamo però c'è l'uso a metà prezzo se vi interessa comprate il materasso materasso 118 singolo o 2 118 che vuol dire? diva dentro che ti parte l'ambulanza 150 euro materasso memory cioè ti dormi e poi quando ti alzi lui si ricorda che stavi dormendo memory che ha una schedina interna bene bene si si lo puoi anche registrare memory ancora bello sta bimba va 7 minuti andiamo fatti ci puoi mancare andiamo a paura andiamo a paura andiamo a paura e se ci angherò fermo no facciamo chi è questo chi è questo ecco già da qui si dovrebbe riconoscere madonna che popò di cinto l'ha detto basta è lui è lui è allegria ma dove hanno indovinato che l'oricchiera no non c'è arrivato nessuno non c'è arrivato nessuno io volevo dire un nome hanno detto tutti i nomi meno che quello giusto io l'ho scoperto guardate a modo al naso indovinerete chi è Simone non è spartaco non è spartaco zitto che mi fa con pallabino questa è una vecchia storia un giorno per la diudiamo quando siete più grandi ciao un abbraccio ciao ciao ciao